Ben trovati, ben trovati i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radioattiva, oggi a Digipedia, sono Paolo Emilio Colombo e sostituisco Francesco Lanni, notoriamente il vostro speaker di riferimento, sono con Remo Tagliacozzo. Buongiorno Remo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, vuoi dirci tu chi sei e di che ti occupi Remo? Certo, io sono l'amministratore unico di Zetema Progetto Cultura, che è la società partecipata di Roma Capitale che si occupa di gestione di spazi culturali, della catalogazione e della conservazione dei beni, quindi è tutto tondo anche dei servizi turistici. L'attività principale che facciamo è quella legata alla gestione dei servizi museali, quindi 23 musei dei sistemi in comune e tutte le attività inerenti, appunto, mostre, eventi e gestione turistica della città. Esatto, turismo e cultura, due dei settori più colpiti in quest'anno per la pandemia, chiaramente, ma anche un settore che forse ha riscoperto alcune strategie, alcuni asset digitali con il quale rilanciarsi. Qual è il bilancio e se c'è un piano per rilanciarle, oltre che per resistere chiaramente in questo momento, che riguarda anche le tecnologie digitali? Allora, parto dalla fine, nel senso che il piano è il nostro piano di change, fatto ovviamente per l'azienda, non necessariamente per la parte digitale, che è un di cui nel nostro piano di change ha avviato due anni fa, un piano di change orientato su quattro obiettivi principali, la sostenibilità, l'orientamento al cliente, il benessere lavoratore del cittadino e l'innovazione tecnologica. Avere affrontato questo piano due anni fa ci ha permesso, appunto, già di rispondere adeguatamente nel primo periodo, ormai si distingue il primo lockdown e il secondo lockdown, noi utilizziamo anche questa parte gergale. La nostra azienda attualmente continua ad erogare servizi appunto di questo tipo, facciamo solo un piccolo escursus. I nostri investimenti in tecnologia già fatti alla fine del 2019, inizio 2020, ci avevano permesso di trasferire dei servizi remoto, parlo quasi esclusivamente di servizi di carattere operativo, ma che danno e che restituiscono un po' la cifra della sensibilità che l'azienda ha su queste tecnologie. Quindi diciamo che questo ha permesso, se faccio un esempio, di mettere il 79% di lavoratori smart working, lei consideri che comunque noi abbiamo servizi al pubblico per più del 70% del personale, quindi un grande successo almeno in questo ambito. Altrettanto lo abbiamo fatto attraverso l'erogazione dei servizi di remoto, la parte della sovrintendenza di Capitolina, la parte appunto scientifica, la parte di archeologia, la parte scientifica, la parte dedicata ai millennials e ai piccoli, insomma tutta una serie di programmi in digitale che hanno fatto un aumento a quattro cifre, quindi parliamo del 1500%, del 2000%, quindi sicuramente è una fruizione che ha dato degli effetti, non dico esperati, ma insomma veramente molto confortanti, ne dico solo uno. Abbiamo aperto l'asta che ha la cortura in casa e abbiamo avuto 50 milioni di contatti, questo per far capire che potenzialità ha Roma, quindi ci stiamo di nuovo, non abbiamo mai smesso di farlo e quindi continuiamo in quest'ambito. Certo, ci sarebbe piaciuto continuare a fare entrambi, quindi la presenza fisica che non può essere sicuramente sostituita da un mezzo digitale, ma integrata, piuttosto che invece tornare di nuovo a sperimentare questi servizi. Ok, e invece diciamo, quindi dal punto di vista della comunicazione, se è culturale, avete fatto delle cose buone e appunto questo dato dei 50 milioni di condivisioni dell'hashtag cultura in casa, la cultura in casa mi sembra molto significativo, ma c'è anche qualcosa che si sta facendo invece sulla collaborazione e quindi si sta scoprendo un modo diverso di fare, di proporre cultura, di fluire cultura o diciamo, su questo siamo ancora, il lavoro è ancora da fare. Allora, innanzitutto noi, come ho detto, avevamo già implementato comunque molte attività sui social e quindi i social stessi sono un grandissimo veicolo, addirittura abbiamo cambiato il messaggio di alcuni hashtag piuttosto che in altri perché ovviamente ci rivolgiamo a un pubblico abbastanza, molto molto eterogeneo, quindi questo ci ha favorito utilizzando i diversi canali a cambiare anche il linguaggio. Faccio un esempio su tutti, è la parte di Tecnotown che è legata ai Millennials, la Casina Raffaello che è legata ai piccolini e le informazioni legate all'inserimento dei giovani nel lavoro, sono tre tipi di clientela diversa ma che comunque stanno in un ambito diciamo sicuramente giovanile, quindi si arriva a fine 30 anni. Potenziando i servizi di formazione del personale utilizzato e aumentando la comunicazione, quindi specializzandosi su questo abbiamo coinvolto veramente decine e decine di giovani e anche le famiglie, quindi la comunicazione si fa sicuramente utilizzando i mezzi che oggi io mi sto rivolgendo quasi esclusivamente ai giovani perché sono stati quelli più penalizzati dalla chiusura. Bene o male la fruizione dei servizi fisici è legata comunque a un'età abbastanza elevata, questi sono i nostri studi di customer che non mentono mai, quindi è chiaro che per noi la cosa più importante era tenere i giovani legati, anche socialmente parlando, di fare un po' da collante e ci siamo riusciti e ci riusciamo ancora insomma a farlo. I numeri sono veramente entusiasmanti sotto questo aspetto. Anche per ampliare la platea di fruitori e anche differenziarla avvicinando persone che magari hanno qualche difficoltà in più come si presuppone, come uno può immaginare essere i giovani e la cultura, rispetto alla cultura è chiaramente una delle mission di Z, ma nel senso quello di segmentare il pubblico. Ora vorrei entrare con te Remo nello specifico di alcuni progetti, per esempio i tour virtuali dei musei civici, però lo farei dopo una piccola pausa se non ti dispiace. O Corremo stavamo cercando di capire quali erano stati gli effetti del Covid, chiaramente effetti un po' deprimenti dal punto di vista dei numeri, ma assolutamente esaltanti dal punto di vista invece della spinta che ha dato per la fruizione e la comunicazione dei beni culturali via digitale e non solo. Uno dei progetti di cui vorrei parlare con te Remo è questo dei musei civici che sono accessibili con i tour virtuali, quindi immagino da casa uno possa mettersi il visore o utilizzare il telefono per vedere a 360 gradi, visitare i musei da remoto, quindi senza andare personalmente e fisicamente lì. Stanno funzionando, come è? Ci puoi raccontare un po' meglio questo progetto? Sai che sulla realtà virtuale dei musei c'è diciamo molta letteratura in merito, se devono essere più raccontare storie o restituire l'esperienza più fedele possibile. Allora, anche in questo caso i tour virtuali noi li avevamo già iniziati nel 2019, quindi li abbiamo potenziati nel 2020 proprio in occasione del lockdown. Esistono la possibilità anche con Google Art addirittura di entrare dentro i musei e di guardarne 13 di questi, quindi diciamo che basta collegarsi al sito museincomune.it e quindi si possono visitare i musei di Roma Capitale nella maggior parte dei casi, insomma almeno quelli più grandi e quelli più conosciuti. La cosa, insisto, questo sicuramente è stato, per la maggior parte delle persone magari questo sembra una cosa diciamo nuova. Per noi che già abbiamo iniziato appunto nel 2019 è una cosa anche abbastanza diciamo già sperimentata, quindi per noi è comunque consolidare il risultato di interessare le persone e quindi in qualche maniera accattivarci il loro interesse in questo periodo diciamo di forzata chiusura quello che abbiamo. Quello che intendo sottolineare in più rispetto ai tour sia virtuali che di realtà aumentata, insomma in questo caso, anche se poi quello che vengono fatte i covisori è che noi facciamo al Circo Massimo Experience in outdoor ad esempio oppure quello che facevamo all'Arapacis fino a poco tempo fa con l'Ara Comera. La cosa veramente innovativa che abbiamo fatto è mettere in digitale tutte quelle visite fatte dai nostri, diciamo, dai nostri archeologi, dai nostri specialisti e dai nostri astronomi, noi abbiamo gli astronomi del planetario di Roma, che hanno raccontato delle storie veramente fantastiche, anche con un buon storytelling, insomma, quindi interessando anche gli spettatori dall'altra parte. Quindi direi che anche questo tentativo, questo primo tentativo di digitalizzazione a livello di contenuto ha dato veramente grandi risultati e cosa che noi continueremo a fare. Lo abbiamo fatto in maniera fisica ad esempio quest'estate al Circo Massimo con le esperienze, diciamo, dal vivo, quindi il racconto del circo tra l'archeologia e l'astronomia e continueremo a farlo in via remota. Come vedi, io non sto dividendo le attività, perché intendo comunque un po' creare quella giusta commistione, confusione, ma nel termine positivo che si deve creare in questo caso. Il digitale non sostituisce l'esperienza fisica, la integra. Come si fa a fare il design di un'esperienza culturale che sia ibrida, cioè dove l'esperienza vissuta in presenza non è di più di quella digitale, ma in qualche modo appunto si integra e si potenzia vicendevolmente. A quali elementi bisogna stare attenti? Quali sono gli esperimenti più interessanti che sono stati fatti? E quali le lezioni che Zetem ha saputo recepire e rilanciare con, diciamo, successo? Allora, guarda, grazie per la domanda perché mi dai proprio l'opportunità di farti capire la differenza. Quando c'è una, diciamo, una visione in qualche maniera passiva dall'altra parte, attualmente, essendo, diciamo, dei prodotti che vengono legati su piattaforme web, non abbiamo in nessun modo la possibilità, diciamo, di ingaggiare il cliente, il fluidore dall'altra parte, se non in maniera indiretta, attraverso, non so, la recezione dei feedback che possono esserci a loro di customer, oppure in altra maniera. La cosa, invece, che ci ha dato grandissimo risultato, quindi proprio per farti capire la differenza, è, ad esempio, un lavoro sui Millennials, con Tecno Home, cioè noi abbiamo fatto dei giochi, un gaming virtuale in cui le famiglie interagivano direttamente via web, collegati con i telefonini, giocando direttamente con i nostri tutor dall'altra parte. Ecco, è questo il futuro. Il futuro è nelle piattaforme, nell'interazione che ci deve essere comunque tra i tutor e, diciamo, gli erogatori di una parte e i fruttori dall'altra, proprio per fare in modo che questa divisione naturale che si crea attraverso questo strumento si possa eliminare sempre di più. Questo è sempre più importante... Invitare alla partecipazione. Assolutamente, è un processo antropologico che noi stiamo subendo già da tanto tempo e che in questo momento lo stiamo anche un po' subendo. Faccio un esempio per quanto riguarda i lavoratori. Il problema dello smart working è legato, ad esempio, a un'organizzazione di lavoro che noi abbiamo già avviato tempo fa, ma quello che altrettanto ci deve preoccupare è il famoso burnout. Cioè, il burnout è quello di farsi troppo coinvolgere all'interno di un mezzo che è freddo, è come quello del PC, del nostro notebook davanti, e di finire per lavorare molto di più senza contatti sociali né senza interruzioni. Quindi questo è altrettanto un problema che si potrebbe creare. Quindi è chiaro che in questo momento la sicurezza e la salute vengono a primo posto, ma non dobbiamo mai dimenticare che fruizione culturale, e quindi in questo caso anche per chi ci lavora, allo stesso tempo deve essere comunque un'occasione di socializzazione, altrimenti si perde veramente un'occasione. Molto interessante, molto interessante. Diciamo, l'anno scorso, se non sbaglio, c'era stato a Firenze un interessante convegno che riguardava i musei e la digital transformation, e quello che era venuto fuori dalla testimonianza dei direttori dei musei americani che avevano partecipato, era la necessità di trasformare di fatto non soltanto la fruizione culturale, ma in qualche modo proprio il prodotto, il suo modo di produrlo, e quindi di arrivare a una, se vogliamo chiamarla così, una cultura, diciamo, post-moderna, in cui l'atto di fruire l'opera d'arte, l'atto di collaborare, dare un contributo, fare un commento, e il momento in cui questo commento veniva ricondiviso fra tutte le persone che lo stavano fruendo in quel momento, era esso stesso, produceva esso stesso una forma, diciamo, di racconto che si andava a innestare con l'esperienza artistica, e facevano, diciamo, meglio di me e più chiaramente di me, questo ragionamento riportando alcuni esempi fatti nelle comunità americane, nelle città americane, in cui i territori, le piccole città, venivano, diciamo, ingaggiate per creare la storia del proprio posto, la storia delle proprie radici, e queste storie, in qualche modo, venivano poi connesse in una piattaforma digitale, dove potevano essere fruite, ricevevano e venivano così arricchite commenti dalle altre persone, e si andava a creare un vero e proprio ecosistema della cultura. Ora, noi abbiamo tanto parlato di comunicazione, ma anche di strumenti come quello della realtà aumentata, della realtà virtuale, che differenziano il modo di fruire un'opera d'arte. La mia domanda è, c'è anche un lavoro che Zetema sta facendo per fare un passo avanti nel modo di intendere, produrre e consumare cultura simile a quello che ci suggerivano i cugini americani, quindi quello di comunità e collaborazione? Allora, molto complessa, proverò a rispondere anche perché fa parte proprio di uno dei nostri obiettivi strategici, che è quello dell'innovazione. Allora, io stesso giro l'Europa, il mondo, con i miei collaboratori, e conosciamo benissimo il benchmark degli altri. Zetema è la società più grande d'Europa che fa questo tipo di attività, quindi ci mostriamo assolutamente preparati alla risposta anche delle tecnologie, che quasi sempre comunque in qualche modo devono sposarsi con il contenuto culturale, cosa che noi non ci dimentichiamo. Forse un po' questa matrice classica che con i greci dividiamo, insomma, un po' ci contraddistingue anche in questo. Lo dico perché siamo comunque prima al mondo ad aver fatto una realtà virtuale outdoor, quindi siamo sicuramente sul pezzo della tecnologia, mentre che sui contenuti credo che nessuno ce lo possa un po' discutere, almeno su questo. Assolutamente. Esatto. Ma in realtà... Questo solo per definire, diciamo, il campo, no, perché lo dico anche per chi ci sta ascoltando, che la sindrome di NIMBY c'è sempre, no? C'è sempre qualcuno che lo fa meglio di te, oppure qualcuno che lo vorresti fare, quindi... No, 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 ma adesso la domanda mi dispiace, però la volevo sviluppare. E' interessante perché facevano qualcosa di diverso. Sì, 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 ma è chiarissimo, è chiarissimo. Quello su cui noi stiamo lavorando è proprio una... il processo di digitalizzazione del patrimonio è proprio aperto in quest'ottica. L'ottica è però quella di cambiare il paradigma dalla programmazione, diciamo, culturale top down che veniva fatta e che viene fatta ancora, ma dappertutto ad una programmazione culturale che sia bottom up. Che cosa voglio dire? Quello che tu hai raccontato prima è esattamente quello che noi facciamo da un anno e mezzo nei musei attraverso la raccolta dei dati della customer satisfaction. Non lo facciamo più in maniera cartaglia, lo facciamo su digitale. Questo perché? Perché abbiamo distinto, nel corso del tempo, quello che è la soddisfazione del cliente una volta che fruisce del servizio e lo fa o a casa o dopo giorni, rispetto a quel sentiment che si trova nel momento in cui io fruisco dell'evento. Questo noi lo facciamo già da un anno e mezzo con una raccolta di dati intorno ai 15.000. Quali insight avete avuto da questa raccolta di dati? Che cosa avete capito? Abbiamo capito e abbiamo capito che le persone... Allora, innanzitutto il dato già a due ore, a un giorno, cambia radicalmente. Il feeling della persona nel momento in cui fruisce dell'evento è naturalmente più alto rispetto a quello che poi alla fine lo metabolizza. Cioè, cosa voglio dire? Anche lo dico, vedo che sei attento su questo quindi posso anche entrare un po' più nel dettaglio. Allora, nel momento in cui io fruisco effettivamente dell'evento, se voglio il feeling su cui l'evento lo devo fare immediatamente attraverso una raccolta che possa essere esclusivamente digitale. Quindi con una domanda diretta che io ne posso svolgere con delle domande molto banali. Se io ritardo questa cosa il sentiment, quindi la customer experience si sposta dall'evento al contesto. Quindi ci va di mezzo il contesto, i trasporti, la città, il tempo, il servizio. Quindi diventa un altro tipo di feeling che rispetto alla domanda posta cioè l'evento ti è piaciuto o no il quadro ti è piaciuto o no la scultura è piaciuta o no è un dato diverso che è quello che fanno tutti e che noi non facciamo più da tanto tempo o già da più di un anno raccogliendo quello che si dice il CRM. Noi in azienda ci stiamo organizzando con un sistema ARP con un customer relationship management e siamo l'unica azienda in questo momento che lo sta costruendo perché abbiamo bisogno di capire cosa vogliono i nostri clienti da noi ma nel momento in cui fruiscono per non sentirci dire sempre le stesse cose cioè che poi il giudizio si esposti sulla città noi facciamo culturale bella la mostra però gli autobus sono tutti passati come dice anche il Marchese del Grillo bella la boiserie bella la cassa banca però in qualche maniera noi abbiamo bisogno di capire il feeling il sentiment del cliente sul singolo evento e questo noi lo stiamo costruendo già da un po' questo ci permetterà di costruire dei prodotti e poi finisco ovviamente perché abbiamo già più di qualche partner che ci sta offrendo servizi in modalità e qua entro non so se ne vogliamo parlare su una modalità non più free però se vuoi approfondiamo no assolutamente e poi voglio parlare proprio di questo cioè anche sulla scorta di quello che ha detto Franceschini da poco cioè sulla determinazione capacità e voglia di resistere nel deserto lo chiama così lo dice così oggi per poi perché poi tanto ci aspetta un momento di grande crescita una crescita che evidentemente se fino adesso i servizi sono stati gratuiti per venire incontro ai cittadini dovranno prima o poi essere monetizzati e monetizzare questi contenuti digitali è una bella sfida e quindi assolutamente sì Remo ne voglio parlare ne parliamo fra poco ben trovati ben trovati radioascoltatrici radioascoltatori di Radioattiva oggi Digipedia siamo qui con Remo Tagliacozzo amministratore unico di Zetema e stiamo per affrontare un tema particolarmente diciamo sfidante e particolarmente attuale che è quello della monetizzazione dei servizi digitali per la fruizione e come abbiamo sentito non solo per la fruizione ma anche per l'analisi dei dati anche per la comprensione del feeling che i cittadini hanno con le manifestazioni culturali che Zetema organizza e niente insomma Remo questa è una grande una grande sfida che cosa che cosa pensate quale quale pensate che sia lo scenario che si aprirà a partire dai prossimi mesi allora c'è stata una provocazione del ministro Franceschini la scorsa settimana tra l'altro eravamo insieme alla presentazione del rapporto di impresa cultura del rapporto fedele culture quindi ci siamo proprio confrontati sul famoso tema diciamo di Netflix della piattaforma ovviamente noi ci stiamo lavorando già da un po' di tempo anche ipotizzando le varie clientele clientele in questo caso di clienti dall'altra parte che ne potrebbero fruire in questo mi tengo abbastanza riservato perché comunque l'analisi del sentiment che abbiamo avuto appunto negli eventi non è ancora abbastanza significativa la sperimentazione dei servizi free continuerà per un po' di tempo perché ci permetterà di capire anche i vari target di clientela che abbiamo non dimentichiamo il fatto che comunque come dicevo prima quando tu hai un hashtag che ha 30-40 milioni di contatti sai benissimo che non ci sono solo italiani dall'altra parte quindi anche perché noi siamo è vero una società di Roma Capitale ma il nostro contesto di riferimento sono comunque 16 milioni di turisti che almeno fino al 2019 venivano a Roma e che fino ai prossimi 3-4 anni non avremo quindi anche l'esigenza diciamo di integrare questa perdita intorno all'80-85% che abbiamo avuto fino al momento ci deve far capire che comunque il nostro mercato è un mercato molto molto a rischio anche per quello che potrebbe succedere oggi è successa la pandemia domani potrebbe esserci un'altra cosa quindi l'esperienza fisica non potrà essere assolutamente sostituita perché penso che buttare la monetina a Fontanetrevi o passare davanti al Colosseo a Castel Sant'Angelo o vedere Marco Aurelio è un'esperienza inarrivabile altrettanto però dobbiamo anche renderci conto che il portatore diciamo di Vivante di Macciupic probabilmente non ci veniva prima e non ci verrà mai a Roma quindi dobbiamo capire come poter raggiungere anche questo tipo di cliente in che modo lo dovremmo fare attraverso la produzione digitale la produzione digitale non può essere ovviamente solo e esclusivamente una produzione gratis gratuita lo può essere diciamo per contesti di natura didattica questo diciamo lo fanno già i network televisivi in qualche maniera ma la dobbiamo integrare anche con una proposta seria però ecco qua lo dico in maniera molto netta di intrattenimento intrattenimento l'impresa culturale è all'interno della quale esiste anche l'intrattenimento quindi non c'è nulla di male di pensare di far furire la nostra immensa il nostro immenso patrimonio artistico e non solo quello artistico perché parliamo ovviamente di tutto parliamo anche di cultura parliamo di teatro di opera di musica di letteratura di poesia in maniera virtuale il modello che io sto pensando ma non è non è che non mi sto inventando nulla di particolare il modello diciamo di revenue sharing vuol dire di ricavo diviso in qualche maniera tra in un ipotetico io ovviamente per forza di cose utilizzare il condizionale perché in questo momento stiamo mettendo a terra tutte quelle che sono le nostre le varie proposte diciamo avvantaggiandoci del fatto che come noi come Roma insomma in qualche modo la nostra offerta è difficile le basi sono buone diciamo a livello anche se non è che si vende da solo altrimenti non saremo il dodicesimo paese al mondo per offerta per i turisti quindi terza è Londra e quarta è Parigi quindi dobbiamo farla ancora di strada sotto questo aspetto quindi non è vero neanche che si vende da sola però volevo dire che comunque in qualche maniera questa nostra offerta dovrebbe essere dovrebbe dovrà essere un'offerta che probabilmente coinvolgerà pienamente i privati quindi voi pensate che da quando è stato istituito il nuovo codice appalti con i famosi PPP che sono i public partnership ci sono stati solamente 24 progetti in Italia quindi il mondo della cultura è uno di quelli che rifiuta quasi così a pelle il privato probabilmente perché pensa che i prodotti non siano tali proprio perché non si pensa la cultura come un prodotto o pensa che ci sia disattenzione da parte del privato quando dimentichiamo invece che non è così nonostante ormai si è dimostrato che da diversi anni c'è una moltiplicazione per tre se non sbaglio ogni euro prodotto ogni euro investito a quattro pensate che l'industria è sette quindi voglio dire non è che siamo proprio così lontani quindi grazie per questa cosa che hai detto proprio per questo che stavo dicendo sempre più privati si avvicinano a noi si avvicinano anche a Zedema perché ovviamente una brand identity forte con un'azienda così strutturata nel mondo della cultura così interessata alla sostenibilità ambientale è comunque un ritorno in termini di immagini che l'azienda potrebbe avere ma alla fine io credo che i modelli di revenue sharing siano quelli giusti quindi un rapporto di ricavo che potenzialmente ha un mercato di sette miliardi di persone che sono quelli che sono sul globo del raguio almeno fino a quando non ci spostiamo su Marte quindi secondo me ci sono tutti i presupposti i costi per carità sono grandi sono enormi proprio per questo non si può pensare di escludere il privato da questo contesto insomma ok in questo tuo intervento tu hai toccato diversi diciamo temi molto molto interessanti provo a riunire i puntini e diciamo ti chiedo alcune precisazioni alcuni approfondimenti secondo te tu hai parlato giustamente diciamo almeno qui a Radioattiva sfondi una porta aperta della necessità che i beni culturali che in generale alla cultura diventi anche intrattenimento per questo chiaramente c'è bisogno di storytelling e c'è bisogno di uno storytelling che orienti e che come dire saldi i vari racconti le varie storie i vari valori all'interno di un'immagine unica che diciamo possiamo chiamare brand Italia marco Italia marco bellezza come più come più ci piace che è un lavoro che si fa assolutamente l'inserimento l'affiancamento dei privati accanto al pubblico tutte cose che diciamo sono diversi anni che ci rimproveriamo da soli di non aver saputo fare bene allora la prima domanda che ti faccio è secondo te quali sono le cause ho capito che Zederman si sta muovendo in questa direzione e che vuole intraprendere un percorso che ha già intrapreso un percorso che diciamo vuole portare la cultura a essere raccontata nelle case nei telefonini e nei visori di tutto il globo terraco come lo hai definito dall'altra parte però diciamo vorrei capire anche quali sono stati i limiti che abbiamo avuto fino adesso e quindi le strategie che Zederman ha adottato per superare questi limiti e tutto questo tenendo un punto molto critico invece cioè che giustamente la cultura deve essere l'intrattenimento ma in qualche modo dell'intrattenimento ormai ci è finito tutto se uno pensa per esempio anche a come dire alla traiettoria di business della Juventus una squadra di calcio che per anni è sempre stata soltanto una squadra di calcio e che da 2-3-4 anni a questa parte si è completamente spostata nella sfera dell'intrattenimento con tutte le opere diciamo di marketing le attività di marketing che ha fatto oggi con un canale tv che sta su Amazon Prime che è una delle novità insomma di queste settimane ma in generale adesso senza andare a parlare altro l'intrattenimento è tutto noi abbiamo un intrattenimento con una qualità e pagando un prezzo bassissimo con Netflix con Amazon con le principali piattaforme abbiamo altri campi industriali che si muovono e fanno o diventano hub di intrattenimento allora quale può essere la caratteristica che fa della cultura un elemento di intrattenimento che spicca in una massa critica così diciamo voluminosa e complessa sì allora provo un po' a mettere ordine l'ultimo caso esattamente quello diciamo della trasformazione che non solo la Juventus ovviamente anche per fatturato sta facendo la stessa AS Roma al di là diciamo dei problemi societari collocandosi come seconda società seconda città giocando su città società sulla seconda del cuore ha posizionato comunque la squadra di altissimi livelli sulla parte social avendo anche degli ottimi ritorni in termini di immagini purtroppo meno sportivi ma adesso questo è un altro tema da romanista lo dico da romanista si sentiva un po' esatto però diciamo strategicamente ho capito la strada quella di utilizzare meglio la terza parola cercata al mondo su Google che è Roma quindi affiancando ad una squadra di calcio non per niente erano spariti i vecchi simboli però voglio dire siccome conosco la strategia l'ho anche compresa e capita in questo caso però ci si dimentica che poi c'è il gioco e il gioco invece diventa la cosa più importante quindi ogni cosa secondo me va un po' calata su uno specifico provo un po' a esprimermi allora noi abbiamo fatto un'esperienza molto importante sulla realtà virtuale aumentata con l'Arapacis e poi dopo con l'Arapacis col viaggio nei fori che sono diciamo quelle proiezioni le proiezioni tecnologiche che avvengono all'estate al foro di Augusto e al foro di Cesaro e poi il circo massimo experience quindi abbiamo diciamo tre tipologie di diciamo di fruizione fruizione della cultura dell'evento in maniera diversa cioè in maniera non standardizzata quindi non classica in qualche modo allora in tutti questi tre casi e sono casi tutti di successo perché i numeri ce lo dimostrano soprattutto viaggio nei fori e viaggio e il viaggio nei fori con il foro d'agusto e il foro di Cesare ha dimostrato che uno storico è un racconto fatto da personaggi famosi che hanno anche voglio dire una riconoscibilità verso l'esterno l'Arapacis Luca Ward il foro d'agusto e il foro di Cesare Piero Angela il circo massimo experience Santa Maria Iaiaforte che cosa vuol dire questo? che dobbiamo in qualche modo rendere confidente il prodotto che deve essere erogato dall'altra parte quando ho visto Claudio Santa Maria operare anche sugli aggettivi sui condizionali io sono un coach quindi sono molto attento anche alle modalità di linguaggio capisco sempre di più che dobbiamo affinare questo tipo di linguaggio e sforzarci per farlo arrivare a tutti quanti quindi adesso non voglio dire che bisogna fare la fiction sul Marco Aurelio però è chiaro che comunque se la cultura che è il mondo autoreferenziale per diciamo quella antonomasia continua a pensare che questi prodotti sono legati io lo dico perché lo vedo anche attraverso diciamo i ritorni sulla Mi Card ad esempio che è una card che ha fatto veramente la differenza con 150.000 però faccio un'analisi statistica di chi sono i percettori e ancora una cosa che non interessa una fascia d'età che a noi invece interessa moltissimo perché saranno i clienti del futuro ecco proprio in questo il tema quindi non ho la risposta da darti in termini di come si dovrà fare si dovranno fare i tentativi come si è fatto comunque come si è fatto sempre ma sicuramente la necessità di permettere poi io parlo di intrattenimento perché comunque dobbiamo interessare le persone ogni volta che noi ci distraiamo per leggere una mail la nostra attenzione scende sotto l'asse della scissa ci vogliono 10 minuti per riportare l'attenzione quindi se pensiamo che bisogna fare documentari di tre ore di un museo anche realtà virtuale tutto il resto noi sbagliamo profondamente perché la mente umana da neuroscienza quindi lo dico da esperto quindi ha una capacità di attenzione molto molto bassa quindi se vogliamo raggiungere un potenziale cliente per interessarlo a cui magari vendere tra virgolette vendere i prodotti anche in maniera in maniera diciamo gratuita dobbiamo interessarlo e credo che si possa fare solo esclusivamente attraverso un linguaggio diverso e producendo dei contenuti accattivanti assolutamente assolutamente in questo c'era qualche no ormai già tre anni fa quattro anni fa mi sa la BBC aveva tirato fuori un documentario in realtà virtuale animato sulla rivoluzione russa quindi uno dei temi diciamo non particolarmente di appeal ok che invece ebbe uno sardino successo fu scaricato su Steam la piattaforma c'è il museo della Normandia dello sbarco in Normandia che è fantastico ma è diventato un parco giochi io lo ho visti sono venuti qua a presentare un amministratore delegato gentilissimo molto in gamma molto commerciale forte però stai vendendo un evento che riguarda la guerra sembra un videogioco ovviamente te lo immagini se io faccio la sala dei grazie e curiazzi con la battaglia lo posso fare fino a un certo punto non dimenticando mai quali sono le mie basi da dove provengo quindi senza stravolgere questo è un po' questo è un po' diciamo la complicità il primo pezzetto che ti ho raccontato di quello che già dovremmo fare è il mondo è il mondo ecco perché dico lo stimolo deve venire anche da privati ti volevo rispondere sul fatto perché non è successo per due motivi principali uno perché la nostra legislazione è così chiusa è così anche per quei casi che lo prevedono l'intervento è così diciamo difficile pensate solamente al meccitanatismo alle pratiche fiscali che bisogna fare cioè dobbiamo rendere più fruibile questa cosa anche dal punto di vista burocratio e per la seconda lo ripeto tutte le aziende molte di queste aziende ci considerano noi aziende pubbliche delle stazioni appaltanti continuano a venire da noi come fornitori lo dico se è questo il contesto giusto magari mi sta sentendo qualcuno noi abbiamo bisogno di partner non di fornitori perché di persone che ci vengano a vendere le cose abbiamo la fila fuori vogliamo avere idee vogliamo avere progetti imprenditoriali su cui poter investire entrambi altrimenti se voi imprenditori io lo sono stato quindi voglio dire anche io lo sono in qualche maniera chi fa questo mostiere lo è continuiamo a avere sempre le stesse proposte fighe bellissime tecnologiche ma in cui dobbiamo comunque sostenere il costo solo noi in questo tempo è terminato è finito la fiscalità non può più sostenere uno sforzo di questo tipo quindi se volete fare tra virgolette i soldi quindi un ritorno economico perché è giusto e corretto che ci sia e non deve essere assolutamente penalizzato né criminalizzato perché gli imprenditori devono guadagnare ci sono aziende alle spalle però devono proporre dei progetti quindi sforzatevi come facciamo noi nelle aziende alle open innovation avere gente che ci viene a raccontare come ci si muove dal punto di vista tecnico scientifico ma portate idee chiaro e come si fa raccolgo il tuo invito perché mi sembra molto mi sembri tu molto energico e come dire entusiasmante nel comunicarci o nell'aprire Zetema agli imprenditori e quindi diciamo voglio raccogliere questo invito e chiederti ma come si fa a diciamo entrare in contatto con Zetema a parlare con te a proporre idee e a Zetema si chiama Zetema e si contatta Zetema molto semplice è una cosa nell'immagine pubblica nell'immaginario diciamo no come dire Zetema è la società che gestisce la cultura di Roma è veramente banale questa cosa a parte noi ci troviamo da tante parti capisco la provocazione che hai fatto non è che io chiamo al cellulare però allora a parte che io sono su LinkedIn quindi rispondo a tutti in generale però anche perché il contesto ti ho detto 24 progetti PPP figurarsi se però io da quando sto qui non ne ho visto uno eppure gestisco la mia azienda gestisce un terzo dei beni protetti dall'UNESCO a livello mondiale cioè un terzo dei beni gestiamo noi nessuno si presenta qua con un'idea di partenariato nessuno tutti vengono a proporti la cosa che devi pagare ti devi prendere poi l'innovazione la manutenzione chi la paga cioè scusami sto facendo questo discorso molto operativo però fino a quando non avrò un partner di fianco continuerò ad andare avanti da solo ci metterò più tempo ovviamente questo è chiaro perché noi non è che possiamo avere accesso a chissà quali finanziamenti lo dobbiamo fare con una conduzione virtuosa cosa che noi abbiamo ricordo a tutti che Zedema nonostante tutto nonostante quello che è successo continua a stare in perfetto equilibrio economico finanziario con un progetto di austere di interna abbiamo sopperito anche i servizi museali quindi nel senso un'azienda che si gestisce e anche prima l'era gestita bene quindi non ovviamente ognuno poi ci mette il suo insomma nella sua gestione quindi quello che volevo dire noi siamo qui per ricevere tutte quante le idee le proposte quindi te lo chiedevo perché avevi parlato ad un certo punto di open innovation quindi immaginavo che ci fossero degli come degli open day degli incontri dei programmi in cui voi favorivate l'ingresso la presentazione di proposte di partenariato e quindi che ci fossero degli appuntamenti da qui ai prossimi sei mesi sono stato costretto ho dato ho chiesto io lavoro anche all'università diciamo mi occupo di strategia aziendale ho chiesto proprio a dei miei amici appunto di aiutarmi in questo qua quindi speriamo che da qua al prossimo mese due mesi al massimo aprirmo una sorta di comitato consultivo scientifico con le università con degli hub che ci portano delle idee già all'interno dell'azienda operativa è un'unità che fa ricerca e sviluppo anche perché ci sono ci sono anche dei vantaggi a livello fiscale quindi siccome noi ne facciamo le iniziative ne parlavo prima di Tecno Home del Planetario dell'attività sul Cosmo dell'attività scientifiche didattiche noi abbiamo messo tutta l'offerta si chiama PAD quindi patrimonio a distanza quindi tutta l'offerta didattica sulle scuole abbiamo completamente switchata in remoto quindi di questi progetti ce ne abbiamo abbastanza ora ci servirà la piattaforma quindi piattaforme eventi ne abbiamo moltissime quindi speriamo che tra poco coinvolgeremo in maniera anche formale ufficiale diciamo le università ti dicevo non c'è un evento perché poi i miei interlocutori saranno università centri di ricerca ma in generale tutti gli imprenditori mi conosco cioè ci conoscono quindi sono cioè non è che abbiamo trascurato perché tanto o con Federe Culture o con la sorrintendenza il nostro mondo è abbastanza variegato ma ne avessi visto uno del progetto serio e lo dico anche in maniera molto anche i player anche i player più importanti anche i player più importanti diciamo che sicuramente questa questa radio ha all'ascolto più di qualche imprenditore quindi vi invitiamo a farsi sotto e raccogliere la sfida diremmo tagliacozzo sicuramente non è una sfida facile diciamo venire qua e dare proposte innovative perché noi abbiamo un TRL io vengo dall'aerospazio quindi dalla ricerca quindi il TRL è anche abbastanza alto magari potrebbe non sembrarne ma è così quindi ci vogliono idee belle fighe insomma quindi su che stream cioè quali sono gli stream nei quali in questo momento sentite di aver più bisogno di un contributo dall'esterno produzione digitale produzione digitale produzione digitale e diffusione attraverso tutti gli strumenti di IoT questo sicuramente è la cosa più importante perché la piattaforma si trova si cerca si fa si costruisce la parte software alla fine nonostante non ci sia un grosso espertise in Italia adesso sono tutti esperti però insomma insomma anche un po' di provenienza informatica me le fa capire anche perché si deve integrare con con il nostro ERP quindi insomma però si costruisce la parte produzione digitale effettivamente è una cosa nuova è una cosa nuova è una cosa anche antropologicamente parlante bisogna capirla non ho soluzioni ecco perché molte volte io sto qua e ascolto però se poi dopo il feeling te lo devo dare io i dati giusti di feedback è giusto che io li metta in spazio questa è una cosa molto interessante che prima diciamo abbiamo toccato cioè questa proprio questo cambio di mentalità mi sembra da io ho un bene ed è così bello che tu lo vuoi vedere e la mia come dire il mio servizio si limita ad aprirti le porte a io comincio a conoscere non soltanto quello che ti piace ma comincio a conoscere quello che tu pensi i tuoi feedback le tue opinioni il tuo sentiment e quindi adeguo nel tempo ok la mia offerta culturale diciamo in maniera come dire adesso da customer centricity ecco cioè mettendo al centro esatto questo mi sembra mi sembra mi sembra un elemento molto interessante ma diciamo avete avete qualcuno che mi rema contro cioè che cosa voglio dire questa trasformazione di mentalità che in qualche modo per i puristi può sembrare una mercificazione della cultura diciamo è stata accettata da tutti gli stakeholder da tutti i partner che voi avete oppure state facendo anche una battaglia di cultura su questo su questo su questa nuova dimensione dai ti chiedo questo ti chiedo questo ti chiedo che cosa ne pensi in proposito della più grande commercializzazione fatta negli ultimi mesi degli uffizi con i ferragni con la ferragni e se anche quello può essere diciamo uno degli strumenti una strada buona una strada non buona criticità insomma fammi fammi regalaci questi ultimi cinque minuti e poi ci lascio certo allora parto dalla fine non ci vedo nulla di male nel fatto che a parte il direttore lo conosco molto in gamba forte nel momento in cui si dà ai musei la gestione diciamo del loro conto economico il loro bilancio quelli devono far tornare in qualche maniera i conti soprattutto quando poi non ci si affida come in quel caso o almeno parzialmente la fiscalità si abbassa il contributo di fiscalità quindi si devono aumentare i ricavi quindi il fatto di utilizzare l'influencer come la ferragni in questo caso non ci vedo nulla di male è chiaro che come in questo senso si parte con le polemiche legate appunto alla percificazione io francamente insomma noi abbiamo un approccio molto molto contenuto e anche molto pragmatico su questa cosa sappiamo benissimo che non ci possiamo né dobbiamo né vogliamo allontanare da quello che è il nostro contesto diciamo anche dal punto di vista culturale non possiamo rappresentare un'altra cosa ma stando sul pezzo già da tanto tempo anche con servizi come ho già detto prima sulla virtual con la virtual sì la realtà virtuale aumentata e attraverso diciamo l'erogazione di eventi come quelli serali di fruzione diciamo con videoproiezioni abbiamo siamo un pezzetto più avanti sappiamo bene che possiamo tranquillamente conciliare i diversi pubblici ecco io su questo andrei cioè i pubblici sono fondamentalmente di due o tre tipi la parte didattica giusto la parte diciamo relativa alla parte scientifica cioè chi guarda didattica è più formazione scientifica più di acculturamento di conoscenza e la parte relativa appunto ad una fruzione più leggera con l'intrattenimento non ci vedo a veramente nulla nulla di male in tutto questo quindi io credo che nel momento in cui le risorse come purtroppo lo dico lo sottolineo faccio un esempio di Roma Capitale noi nel 2019 avevamo avuto 107 milioni di euro della tassa di soggiorno quest'anno forse ne avremo 20 noi ci alimentiamo attraverso questo sistema la nostra Roma Passe che è la Passe più venduta al mondo è la Passe pubblica è la Passe più venduta con quasi 650 mila copie quest'anno abbiamo un calo del 90% cioè in che modo possiamo recuperare questo? pensando che ce lo possa restituire la fiscalità oppure cercando di capire in che modo vendere senza perdere appunto ovviamente la nostra natura a diversi pubblici io questo cioè chi parla senza avere un conto economico sotto senza avere responsabilità diciamo di gestione parla a vanvera quindi è chiaro che la grande sfida è proprio quella che abbiamo toccato prima secondo me cioè quella di dire la cultura è intrattenimento in un mondo in cui tutto è intrattenimento di altissima qualità a un bassissimo prezzo cioè ci dovremmo profilare ci dovremmo stare attenti dovremmo profilarci come fare una Netflix certo ma fatte assolutamente quello di cui ne parlavo io non ho non ho in mano certo non c'è la ricetta è chiaro non ho 33 anni non cammino sull'acqua e quindi non ce l'ho diciamo la risposta so solo so solo che da qui ai prossimi 4 anni il mio mercato di riferimento che sono principalmente e parlo di Roma Capitale i 16 milioni di turisti di cui intercettavo 3, 4, 5 l'anno non ce ne avrò più quindi o io piango continuo mi piango addosso è interessante vedere poi quali sono state le opere in cui diciamo che non partivano dal racconto dell'arte ma in cui il racconto dell'arte è diventato mainstream penso non so a Dan Brown piuttosto che diciamo le serie esattamente cioè che in realtà era da quel mondo dalle tecniche di narrazione dal modo di insomma proprio della letteratura proprio delle serie tv proprio del cinema che poi includono le opere d'arte come loro diciamo percorso come 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 hai fatto un esempio perfetto addirittura un veicolo datato non possiamo parlare un veicolo obsoleto per la maggior parte di persone eppure a quello ha costituito comunque un volano d'accelerazione per i luoghi dell'arte che diversamente non sarebbero mai stati conosciuti non solo la storia e l'arte insieme quindi quello che hai detto è il ruolo del cinema per Matera per esempio esattamente esattamente però appunto sono più quei mondi lì che vengono il radiatore per Colosseo anche esattamente però sono quei mondi lì che vengono a diciamo vengono a utilizzare quasi l'arte e non l'arte che da diciamo con le proprie forze entra negli altri mondi questo è interessante capire come modulare questo rapporto perché mi sembra che ogni volta che c'è l'arte che prova a diventare digitale diventare cinema diventare 3D diventare virtual reality diciamo è sempre rimane sempre addosso il peso della della comunicazione dell'informazione quando invece l'intrattenimento a utilizzare l'arte allora diciamo lì le cose diventano più ingaggianti è veramente giusto quello che hai detto è veramente sacro santo poi bisognerà fare io sto veramente in un laboratorio stiamo sperimentando linguaggi contenuti modalità orari contesti familiari contesti stiamo veramente facendo di tutto cercando di tracciare più possibile quelli che sono i ritorni proprio per non per non sbagliare certo non è che la bacchetta magica non ce l'abbiamo quali sono i progetti futuri che avete fatto sulla base di questi dati quindi come dire ti faccio due domande in uno quali dati sono stati più interessanti e quindi quali progetti avete sviluppato su questi dati guarda io in generale l'aumento della fruzione proprio via web è stata veramente incredibile veramente incredibile le soddisfazioni più grandi ce le abbiamo avute proprio dalla parte scientifica nonstante noi siamo un'azienda che divulga cultura proprio sulla parte scientifica legata al nostro planetario alle attività fatte sui millennia sul lab scientifico tecnotown e sulla parte dei bambini su Casino e Raffaello cioè tutte e tre prevedevano comunque di gaming e quindi il convolgimento il ritorno è andato a salire tutti i giorni e ci siamo resi conto quanto e qua torno un po' quello che stai dicendo noi potevamo tranquillamente fare un gioco per ragazzini o per ragazzi limitandoci ai loro profili social abbiamo obbligato le famiglie proprio perché il nostro ruolo noi non ci dimentichiamo mica qual è il nostro ruolo il nostro ruolo noi siamo una società di Roma Capitale una società pubblica e dobbiamo favorire la disseminazione della cultura anche favorendo la socialità quindi noi rinunciando a dei facili numeri e questo ecco il ruolo della società pubblica abbiamo costretto le famiglie a partecipare tutte quante insieme volevamo un genitore e i ragazzi e questo secondo me è il dato più importante che un po' sintetizza tutto non andiamo dietro i numeri o facili ricavi non dobbiamo perdere la nostra identità quindi se vuoi vedere il Buonaventura di Caravaggio devi venire a Capitolini a vederlo solo così proverai quell'emozione però se te lo posso raccontare anche nel frattempo certo se poi ci attacco una una gamification con le mappe con la pacca al tesoro con la realtà aumentata esatta 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 è quello che rende la giornata unica esattamente senza dimenticare che il Buonaventura però è il centro di questo di questo racconto va bene quindi a metà fra Customer Centricity e Caravaggio Centricity in bocca al lupo a Zedema e grazie grazie Remo per il tempo che ci hai dedicato grazie a voi insomma una bellissima intervista grazie a voi grazie grazie a voi